Passano gli anni ma Lorella Cuccarini resta una delle showgirl più fascinanti. Il tempo non sembra scalfire la bellezza della professoressa di Amici, che oggi ha 56 anni. Ma a questa età come fa la più amata dagli italiani ad essere sempre avvenente e in forma, come una trentenne? Semplice, la showgirl segue delle regole salutari. Regole semplici, alla portata di tutti, che fanno però la differenza a lungo termine. È stata la stessa Lorella a parlarne in un'intervista concessa al magazine Starbene. Il segreto dell'eterna giovinezza della Cuccarini. In primis la quotidiana cura della pelle. Lorella non va mai a letto senza struccarsi. È accertato che dormire col trucco può aumentare le rughe. Ma non basta. L'ex conduttrice della vita indiretta usa quotidianamente la protezione 50, pure in inverno quando i raggi solari sono decisamente più deboli. La mia regola è detergere bene la cute più volte al giorno scegliendo prodotti di qualità che ti consentono, in poche azioni, di fare il meglio. Consiglio detersione e protezione dagli uvi. Il trucco nel mio campo è molto ricco e trovo che gli oli di ultima generazione siano fantastici per eliminarlo al meglio. Mi trovo benissimo. L'allenamento di Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarini dà molta importanza allo sport. Alle 9.30 è in palestra per la lezione quotidiana, che non salta mai. Alterna il calisthenics al circuito metabolico. Il primo è una serie di esercizi a corpo libero eseguiti in modo ritmico, finalizzati a tonificare, dare più forza ma anche eleganza nei movimenti. Il circuito metabolico è invece intenso e veloce e coinvolge soprattutto i muscoli alzando il battito cardiaco e stimolando quindi il metabolismo. Saltuariamente Lorella pratica il pillates e poi, ovviamente, c'è la danza, che la Cuccarini pratica da quando aveva 9 anni. In palestra il segreto è fissarsi un piccolo traguardo ogni giorno, motiva molto. Cosa mangia Lorella Cuccarini? E a tavola? A casa Cuccarini domina la dieta mediterranea. Lorella mangia di tutto ma beve poco. Mai superalcolici, solo un po' di vino con gli amici. Nello schema alimentare della ballerina è presente un alimento in particolare, il riso. Lorella predilige questo cereale come primo perché sazia ed è digeribile. Soprattutto quando è in tourne non manca mai un piatto di basmati con un goccio d'olio, che la danzatrice consuma due ore prima di entrare in scena. Tendenzialmente la Cuccarini opta per i carboidrati a pranzo e le proteine alla sera. I dolci, una tantum.